e a bombazze amiche di striscia 100% urmotti oggi in versione guinness world record alle vie spalle abbiamo la torre più alta al mondo 828 metri sviluppata su 160 piani e 4.000 scalini il mio intento è di risalire tutti i 4.000 scalini ai 160 piani senza appoggiare i miei piedi in quattro ore partirò alle 20 ore Dubai alle ore 18 italiane per tentare di arrivare su per la mezzanotte e per passare al giorno dopo allora uno spagnolo e un polacco possiedono un Guinness 2000 scale 100% urmotti giusto perché l'italiano vuole fare lo sbruffone e arrivare a 4.000 il problema qual è? il problema è che all'interno delle scale di sicurezza non abbiamo l'aria condizionata e al momento ci troviamo intorno ai 38-40 gradi dunque sarà veramente dura suderò tantissimo e ho scelto di andare con abiti civili senza troppe menate e utilizzare la stessa mountain bike che usano i servizi con una gomma come potete vedere slick e soprattutto da 26 pollici dunque bando alle ciance questa volta gasate e state con me ci vediamo tra poco a poco basso e ci sono tutta che vuol piante ok uno, due, tre, via and so let's just say I'm back so I'm going to switch to the lower hand Una pinza, una pinza al pelato Porta giù la bici Si, 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 si Si, si, si Camera man, fai vedere le mie rocca Camera man Camera man Camera man Mi serve il tuo, mi serve il tuo Mi ha spaccato il freno Mi serve il tuo, mi serve il tuo Lì è da me, la cambia c'è il giudice Mi serve il tuo, mi serve il tuo 111 Si Dimmi, dimmi, dimmi Dimmi, dimmi Dimmi, dimmi Lascia che non è questa lì Dimmi Lì è lì è grazie Lì è la vita Lì è la vita Lì è la vita Della Bravo! Bravo! Però non ho capito, è il Guinness World Record? Due ore e venti minuti esatti è il nuovo record mondiale per la scalata di Burj Khalifa in bicicletta, conseguito da Vittorio Brumotti. Congratulazioni! Siamo al centosessantesimo piano, abbiamo una vista pazzesca. Citerei a specificare che la Burj Khalifa detiene già otto Guinness World Record. Adesso cento per cento Brumotti, anche lui otto, nella sua cameretta a Boisano ci andrò a piazzare questo. Sono molto felice, devo andare a comparare il chiodino, ringrazio la Guinness World Record, striscia la notizia, il mio caro amico che mi ha fatto da seguito Andrea Odone, Giorgia Palmas che si nasconde là dietro, la lasciamo sul fungolino se non me la rubano, i miei genitori da cento per cento Brumotti. A bombare! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!